Musica Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti Nel ritorno della palude delle carpe Attenzione ragazzi questa volta sono riuscito a fregarle Dunque mi raccomando vi sto portando vi sto facendo visitare soprattutto Dei posti incredibili pesci che non hanno mai visto una persona E capirete perché ve lo dico Ed è una cosa incredibile Pesci di dimensioni veramente importanti Che passavano talmente vicini da poterli accarezzare Quindi ragazzi per questo motivo tanti tanti like E mi aspetto almeno un'ottantina-novantina per questo super video Mi raccomando lasciate un like, condividete il video Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Passate anche dei social e date un'occhiata alla descrizione Dunque vi lascio questo super video Iscrivetevi al canale 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 Grazie a tutti. E' un submergibile quello la. Ce l'ho, ce l'ho raga, ho mangiato. Raga carpuna. Mega carpa dal kayak. Mi sto trainando. Oh, guardate qua due carpettine. Guardate quanto corre. Dai, andiamo a recuperarla. Passate in mezzo a queste alghe qua. Calma, calma, calma. Ok, ho fatto un dribbling. Il problema di pescare in mezzo a tutte queste alghe è che si vanno a incastrare i fili. Guardate qua. Lei ha fatto il dribbling in mezzo alle alghe e c'è il filo ovunque. Ah, ecco qua la mia isca. Si è slamata. Ok, qua è pieno di carpe. Se non avevo la punta intrecciata, cavolo. Era mia. Ok, qua è pieno di carpe. Presa, 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 presa. L'ha mangiata al volo. L'ha mangiata al volo. Raga, ce l'ho. Ce l'ho. Carpa dai kayak. Con la Tubertini Optical Molinalo Arias. Mini warm a Tubertini. Boia! Boia, che roba. Ce l'ho. Ho tirato una super mangiatona sul mini warm. È una bella carpa. Sui 4-5 kg, sicuro. Forziamola, forziamola. Dai, 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 dai. Questa è più piccola e gestibile. Questa è alla. Questa è sta cua settimana? Questa è la cosa che ha fatto. Questa è un belа corsa. Questa è un bel piano. Questa è il belatore nazzo. Questa è l'jungle. Questa è tutta iluerdo. Questa è un bel piano. no si è slamata cavolo dai che cazzo c'hanno tutte che si slamano no cazzo era enorme era qua davanti a me si è spaventata eccola qua un'altra guardate che grossa guardatela porca troia qua c'è un'altra di enorme è una cosa impressionante questo posto assurdo guardatela ne sta arrivando un'altra non riesco ad arrivarci qua che roba guardate che roba è una carpa sui 10 15 kg questa sarebbe un sogno prenderla però ci vuole una canna molto più pesante ce l'ho ce l'ho l'ho presa per la bocca ha mangiato guardatela no è andata c'è bombardieri qua no cazzo l'ha fatta scappare qua non ci sono carpe non ci sono luci ma ci sono carpe io sono venuto qua per i luci ci sono carpe ho detto ormai che ci sono vuoi non provare a prendere una carpa ho detto ormai che c'è Buongiorno 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 Dio Porca Troia Da ci vuole la canaga fishing Proprio Grazie a tutti. 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 Buono. D'eccezione. Porca troia. Super... Super carpa. Guarda qua. Andiamo con il rilascio. Perfetto. Grazie a tutti.